1.868 voti. Nessun candidato alle amministrative 2020 del Comune di Venezia ha ricevuto tante preferenze quanto Monica Sambo. Veneziana doc del Sestire di Santa Croce, 35 anni, avvocatessa, Monica Sambo ha raccolto consensi ovunque, da maestre a Venezia, da Marghera a Chirignago. La politica è una passione che l'accompagna da sempre. Nel 2014 entra nella segreteria del Partito Democratico dopo essere stata prima segretaria di circolo, quindi segretaria comunale dei Giovani Democratici di Venezia e nel 2015 viene eletta in Consiglio Comunale con 500 preferenze. Per il partito è il momento più difficile, una sorta di anno zero, che Monica Sambo, nel frattempo diventata capogruppo, si trova a dover gestire con tutte le difficoltà del caso. Una gestione che piace, se è vero che nella girandola di nomi che con l'avvicinarsi delle elezioni comunali inizia a girare nel centro-sinistra per la candidatura a sindaco, il suo è uno dei più frequenti e, peraltro, l'unico che parebbe in grado di garantire convergenza e sostegno di parti importanti del mondo civico che poi prenderanno altre direzioni. Un dibattito che, come d'abitudine, Monica Sambo ha attraversato mantenendo un discreto e diligente basso profilo, concentrandosi in Consiglio Comunale in quella attività di opposizione alla Giunta Brugnaro che l'ha resa il consigliere più votato di tutto il Comune.